Allenamento a ranghi ridotti per l'Arezzo sul campo insintetico del Bonconte da Montefeltro. Sono ore di attesa per conoscere l'entità dell'infortunio ai tempi di recupero di Kevin Younga. L'esterno francese classe 96, uscito durante il primo tempo supplementare per una fitta al flessore della gamba sinistra, si sottoperrà ad esami medici. Trappella un cauto ottimismo in Casarezzo, anche se sarà solo il risponso dei medici a dire quando Younga potrà tornare in campo. Sul sintetico del Bonconte, Minister Sottili ha diretto l'allenamento al quale hanno preso parte i tre portieri della Rosa e altri sette giocatori, in particolare quelli che nella sfida di Coppa sono entrati a partita in corso o rimasti in panchina. Oltre a Younga, la lista degli assenti comprende anche Muscat, che tornerà solo sabato da Malta, dove è impegnato con la Nazionale, e Paolo Grossi alle prese con un fastidio alla schiena. Domani è allenamento alle 10 sul campo Bruno Nespoli del Villaggio Dante. Intanto è stata designata la terna di Arezzo Piacenza. Arbitro dell'incontro sarà Daniele Deremingis della sezione di Teramo, coadiuvato da Tiziano Notarangelo di Cassine e Francesca Di Monte di Chieti. Il fischietto teramano ha già diretto l'Arezzo insieme all'assistente Francesca Di Monte. Nella passata stagione, l'arbitro e il guardaligne diressero l'incontro tra Iamaranto e la Carrarese. Era la partita dopo lo sfogo di Lucignano, di mister Capuano, che terminò con la vittoria dei marmiferi per 4-1.